Cari amici, leggo l'ennesima dichiarazione di Monsignor Viganò intitolata Un'altra ferita nel martoriato corpo della Chiesa. Quest'ultima dichiarazione di Corg e Mario Bergoglio non ha ancora finito di scandalizzare i fedeli e provocare divisione tra i pastori. Ecco ne aggiungersi in una nuova che apre un'altra ferita nel martoriato corpo della Chiesa. Se lui si riferisce appunto a quelle butade sul battesimo ai bambini nati dall'utero in affitto la possibilità per i transessuali di essere battezzati, padrini gay, eccetera, eccetera. E chiaramente Monsignor Viganò fa una molto attendibile e condivisibile disamina di questo processo vertoniano con cui Bergoglio prima ha cominciato eh chi sono io per giudicare e oggi tentano di sdoganare persino le famiglie omosessuali con bambini avuti da utero in affitto. È ovvio, no? È ovvio, è chiaro. Soluzioni operative? Eccellenza, come sta andando questo progetto sul vizio di consenso? Ci vuole aggiornare? Avete messo in campo dei canonisti? Avete fatto una richiesta? Avete mobilitato i cardinali su questa storia del vizio di consenso? Riepilogo per i nostri ascoltatori? Monsignor Viganò che si ostina a non prendere minimamente in considerazione la documentatissima questione della sede impedita di Papa Benedetto tre anni di inchiesta, un'infinità di specialisti, latinisti, storici della Chiesa giuristi, canonisti, eccetera, eccetera che hanno ricostruito totalmente la questione della sede impedita di Papa Benedetto però Monsignor Viganò non ha mai accettato di parlarne ne parla sempre male, contro, con sufficienza sponsorizza i libri della Sampio X che vanno contro l'ovvia realtà della sede impedita di Papa Benedetto però prima ha tirato fuori la questione dell'irregolarità del conclave 2013 poi Monsignor Schneider forse, ma mettetevi d'accordo almeno con Monsignor Schneider perché vi, diciamo, annichilite l'uno con l'altro Monsignor Schneider ha detto che comunque le irregolarità nel conclave possono essere sanate dalla accettazione pacifica universale in un conclave ritenuto valido ovviamente e quindi, diciamo, questo primo tentativo di Monsignor Viganò è stato stroncato dal suo collega e confratello vescovo Monsignor Schneider le eresie di Bergoglio e lo stesso vescovo Müller dice no, ma comunque Bergoglio non ha pronunciato eresie formali e quindi non si può fare niente vedete, ogni volta dove andiamo a parare non si può mai fare niente per togliere di mezzo Bergoglio però Monsignor Viganò questa trovata l'aveva prodotta questa del vizio di consenso benissimo, che cosa avete fatto allora per togliere di mezzo Bergoglio col vizio di consenso? Eccellenza, ci aggiorni sui lavori in corso per mettere in impeachment Bergoglio per vizio di consenso forse non risponderà così come non risponde a quel gruppo di laici e sacerdoti che da tempo la seguono con interesse e che hanno recentemente pubblicato sul sito ecclesiadei.it una lettera aperta a Monsignor Viganò dice vorremmo porgerle rispettosamente ma anche con estrema franchezza una richiesta di necessaria chiarificazione circa il suo progetto ex surge domine rispetto al quale veniamo da lei invitati a contribuire a livello economico allora vorremmo sapere, dicono questi perché tra i membri del consiglio direttivo viene reso noto solo il nome del presidente chi sono gli altri membri del consiglio quali sono i rapporti numerici tra laici e sacerdoti all'interno del consiglio i sacerdoti che siedono nel consiglio sono canonicamente regolari non ritiene che è inevitabile che in un'associazione ha dichiarata tra azione laicale l'eventuale compresenza nel direttivo di beneficiatori e beneficiati possa generare discriminazione, ingiustizia nella distribuzione degli aiuti nel caso lei ritenga di non poter rispondere alle precedenti domande quali effettive garanzie vengono offerte a un eventuale benefattore a ciò che i fini statuari siano osservati con equanimità eccetera eccetera è vero che lei sta ordinando dei sacerdoti è vero che sta formando i seminaristi chi sta provvedendo alla loro formazione i superiori da lei sdisegnati sono persone adatte cioè sacerdoti specchiata moralità e rettitudine il corpo docente di cui lei dispone insomma un'infinità di domande ecco tra l'altro anche su questa storia del monastero delle monache benedettine di Pienza le monache di Pienza sono state cacciate da Bergoglio e Monsignor Bigano ha lanciato una richiesta per raccogliere un milione di euro un milione e mezzo credo anche di euro per ricostruire il convento alle monache di Pienza ma scusatemi ma con un milione e mezzo di euro ma voi ci noleggiate le pagine le prime pagine dei giornali di tutto il mondo e dite che Bergoglio non è il papa e alle monache di Pienza non solo ridate loro il loro convento ma anche con una bella tinteggiata e con gli infissi tutti nuovi allora vedete bene vedete bene che la condotta ambigua purtroppo non limpida non chiara tanto che degli stessi laici e sacerdoti che apprezzano molto le vicende gli interventi di Monsignor Bigano gli hanno fatto delle domande molto molto ficcanti per così dire io spero che Monsignor Bigano capisca che questa strategia diplomatica tipo sono tutto io io sono arcivesco io sono pastore voi obbedite zitti e buoni limitatevi a fare le offerte perché io so dove si deve andare non paga questa strategia non paga più non c'è trasparenza non c'è logos non c'è logica non c'è verità uno le manda centinaia di articoli su una questione di importanza inaudita millenaria storica cosmica come la sede impedita di Papa Benedetto lei neanche risponde ma non è che non risponde solo a Cionci non risponde neanche ai suoi questi soldi da chi vanno che cosa ci fate i seminaristi chi sono chi li forma ma è vero che lei sta ordinando dei preti è vero che tutto nel buio tutto finisce in un'aura di mistero di Monsignor Viganò non si sa dove viva fa degli interventi così ogni tanto dice delle cose contro Bergoglio assolutamente condivisibile e poi dal punto di vista operativo per toglierci di mezzo Bergoglio che cosa si sta facendo niente non si sa niente exurge domine che cosa ci fa coi soldi che prende boh non si sa allora cari amici io mi rivolgo anche a voi che siete dei Viganiani ma vi sembra plausibile? vi sembra un modo di fare cristico cristiano cattolico? io non credo no? allora mentre Monsignor Viganò fa delle speculazioni teoriche sul vizio di consenso senza poi dare la minima applicazione pratica giusto per catalizzare il vostro dissenso e per darvi come posso dire uno zuccherino noi stiamo mobilitando l'aeronautica per informare le persone con gli aerei con gli aeroplani con gli aeroplani sulle spiagge noi abbiamo raccolto 11.500 firme sono poche? va bene sono poche ma Monsignor Viganò che cosa ha raccolto? forse ha raccolto le 14.000 firme di LifeSite News per chiedere a Bergoglio di rispondere ai dubbi ma io spero che vi risponda con un pernacchio Bergoglio e farebbe bene farebbe bene a rispondere così a tutti quelli che continuano a sollecitarlo come se lui fosse il Papa una figura pessima hanno fatto quei cardinali che hanno presentato i dubbi ha evidentemente mal consigliati e io so da chi sono stati mal consigliati da dei laici e questi cardinali hanno si sono esposti poveretti a essere messi in ridicola a essere giocati come più belli da Bergoglio che è un gesuita che è antipapa che è il vicario della chiesa dell'anticristo che vi aspettavate quindi come vedete la linea diplomatica misterica anfibia di Monsignor Viganò è destinata a un tragico fallimento cominciano a circolare pesantemente delle voci su accordi tra Monsignor Viganò e Bergoglio il fatto che lui non voglia parlare della questione della sede impedita mi mi fa ritenere che ci possa essere in ballo un tipo di accordo del genere ho visto ho visto con come posso dire sgomento circolare una vignetta con le foto di Bergoglio e di Monsignor Viganò e una scritta tipo i due Giuda o qualcosa del genere una cosa che mi ha fatto molta impressione addirittura siamo arrivati alle foto di Monsignor Viganò con la scritta i due Giuda Giuda Bergoglio Giuda Viganò attenzione è finita l'epoca in cui i pastori vivono nel loro imperio decidono mettono tutto sotto al tappeto non è più una strategia per questi tempi dove tutti sanno tutto dove le persone risvegliate si rendono conto di quello che sta succedendo se Monsignor Viganò mette sotto al tappeto la questione della sede impedita confisca i medi americani evita dice no zitto per carità non parlate di questo per carità assolutamente non parlate di Schoenze eccetera eccetera e la gente se ne accorge si vede lontano un miglio così come si vede lontano un miglio che il vescovo Müller continua a girare intorno alle residi Bergoglio eh sì beh è eretico però non è eretico formale è un eretico materiale quindi non possiamo farci niente eccetera eccetera il vescovo Schneider dice eh beh no ma le irregolarità del conclave tutti che difendono Bergoglio che fingono di attaccarlo e in realtà lo difendono lo tengono in piedi attenzione farete una fine terrificante peggiore di quella dei Bergogliani peggiore perché voi sapete qual è la verità Bergoglio sta svolgendo un ruolo escatologico è un cooperator verità voi no voi no voi vi dite cattolici e non lo siete voi non difendete la verità non difendete il Papa vi trincerate dietro queste cose la messa antica la messa in latino eccetera eccetera nella più assoluta nel più assoluto disprezzo verso l'unione con il principio visibile cioè il vero Papa vi dite tradizionalisti e rinnegate la tradizione cattolica di guerre antipapali spietate per mettere sul trono di Pietro un valido successore di San Pietro ecco mentre Monsignor Viganò continua a fare queste disamine sull'operato di Bergoglio mentre continua a fare finta di combatterlo con queste trovate tipo la questione del vizio di consenso noi abbiamo varato una petizione e l'abbiamo già mandata cioè mentre questi tradizionalisti stanno ancora a pensare al da farsi una petizione dice al professor Viglione perché non la fate questa petizione su cosa la fate su quanto è modernista Benedetto XVI ecco fate un sondaggio fate una petizione sondaggio quanto era modernista eretico Benedetto XVI così sicuramente Bergoglio lo togliete di mezzo sicuro ecco mentre questi tradizionalisti fingono di combattere Bergoglio ma in realtà lo difendono a spada tratta ricordo che Monsignor Viganò ha sponsorizzato e recensito il libro di Don Daniele di Sorco parole chiare sulla chiesa che va contro la questione della sede impedita in modo diretto e inutile peraltro noi abbiamo già presentato le firme le abbiamo raccolte in meno di due settimane e le abbiamo già inviate e non è che ci fermiamo qui questa petizione rimane in piedi e continuerà a raccogliere migliaia 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 di firme non basteranno 11.500 ne manderemo 20.000 non basteranno 20.000 ne manderemo 30.000 40.000 50.000 100.000 1.000.000 10.000.000 100.000.000 eccetera fin quando i cardinali non applicheranno l'universi Dominici Gregis convocando il conclave ecco cari amici questa purtroppo è la realtà leggete la lettera aperta di Monsignor Viganò e scandalizzatevi chiedetegli conto di questa storia del vizio di consenso e chiedetegli che cosa si sta facendo per risolvere la situazione per togliere di mezzo Bergoglio non solo Bergoglio ma anche tutti i suoi perché devono essere tolti di mezzo anche i suoi sodali bene avete visto che sono uscite una quantità di date tra l'altro un tour in Trentino oltre alle date che conoscete del 18 a Sassari 19 Cagliari 22 Castellaneta 23 Bisceglie 25 Civitanova Marche poi il 3 a Basti l'8 dicembre il Rovereto il 9 Merano il 10 a Tesero in Val di Fiemme l'11 a Trento a Schio in provincia di Vicenza il 13 dicembre e poi ci saranno altre date grazie a tutti un caro saluto a Sassari a Sassari a Sassari a Sassari